Ciao a tutti, io sono Pietro e sono batterista, Nicolò, batterista, Andrea, bassista, Mattia, cantante, noi siamo di Purple Switch. I nostri testi parlano di esperienze vissute, da me in prima persona, perché la maggior parte dei testi li scrivo io, poi l'ho scritto anche con Nicolò, ma comunque anche di quello che pensiamo noi su certi argomenti, in generale quello che succede qui in Italia, soprattutto. Allora, noi ci ispiriamo a band come Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, diciamo anche Oasis per quanto riguarda le sonorità, soprattutto in esibizioni Unplugged. Abbiamo già registrato alcuni pezzi che potete trovare sulla nostra pagina Facebook e su YouTube, e insomma continuiamo a proseguire nel nostro cammino musicale contando di registrarne ancora. I was going around, looking for a job, when I finally found one, I metto a red girl with a sexy face, a honey red. You're so harder than me, you ever got a sign, but doesn't matter, you just need to be fired, get off the pen, get off the sleeping red, can't start a jump. So you honey red, show me what you can do, let me freak out all night long, give me more than you'll be mine. You did understand my situation, you did understand my situation, you did understand my situation, you're a fucking leet. Suck in my blood, you did understand my situation, you did understand my situation, you did understand my situation, you're a fucking leet. Suck in my blood, you did understand my situation, you did understand my situation, you're a fucking leet. I hope to find you one day Maybe I'll cross a street So you honey bread Show me what hard you can do Let me freak out all night long If you thought, yeah, you'd be mine Let's go